Buone femmine di quattro anni sul miglio, il ritiro di Vincengal ne rimangono in nove Venus gara dopo la sfortunata parentesi francese, lei la più gettonata. Numero 10, piele in salchi, mezzo meccanico in movimento, allineamento che va a completarsi. Vestagas dal centro va al comando con a largo Veri Strong par, parte bene la Venus gara che è già lì, intanto la Veri va a chiedere strada alla battistrada. 13.2 il lancio, gradatamente la targata par sta andando al comando, rompe gravemente Venus gara. E la corsa di Venus gara purtroppo finisce qui. Anche il 7 a tabellone, 28 e 7 i 400. E così lunga fila indiana, cavalli al completamento dei 600. Veri Strong par può leggermente graduare ma ne vengono fuori un 43 e mezzo eloquente. I cavalli, i cavalli affrontano la piegata, viene via il rugantino Becchetti con Vanni Indal, prende la via del largo e tenta la risalita. Mezzo miglio in 59 e 7 e si migliora la grande la targata Indal, ora va a largo di Vestagas e prosegue. Le cavalli affrontano il penultimo rettilineo, viene l'altra gar bene, la vittoria, chilometro in 14 e mezzo, 500 alla meta, controlla ancora bene Veri Strong, Vanni allargo, di dentro Vesta, allargo l'altra vittoria, ma targata Gar, 14 e 2 fanno 1, 28 e 7 i tre quarti di miglio, sembra controllare a generalmente the situation, almeno per il momento la leader, si migliora Vernaccia, cavalli al completamento e la curva finale, ora Vanna Indal fa sul serio, Vanna Indal ma intervengono le avversarie ed è soprattutto la Vernaccia, redini basse, la Vernaccia con Vincenzo D'Alessandro Iunio si afferma su Vittoria Gar e Vanni Indal. Le altre hanno seminato, ma chi ha raccolto? tanto per cambiare quel cinico di Vincenzo D'Alessandro Iunio Ralias Manini Dolci, che indirittura dispone agevolmente degli avversari, 1,58 e 9, notevole per questa Vernaccia, la Vernaccia è un buon vino e lui stasera brinda con la Vernaccia, 13,51, bene l'altra Gar, male l'altra, ma bene questa vittoria. Linea allo studio.